Oggi parliamo di quella situazione di disperazione, c'è moltissime volte mi arrivano messaggi non ce la faccio più, ho toccato il fondo, oggi proprio non so come fare, sono disperata, sono depressa, non ho strumenti per uscire da questa situazione, non ho gli strumenti proprio per affrontare la giornata di oggi. Ecco, in situazioni così il cervello inizia automaticamente a cercare una soluzione, perché siamo programmati per vivere così, nel senso che siamo programmati per percepire il pericolo, quindi organi di senso, proprio la semplice vista, no? E fuggire, trovare una soluzione veloce e momentanea che ci elimini quel problema. Questo riflesso naturale che abbiamo dentro di noi è totalmente sbagliato se abbiamo fibromiagia, nel senso che non dobbiamo dargli molto ascolto, perché? Perché non dobbiamo cercare un modo per risolvere il nostro problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, tantissimi anni. La fibromiagia non se ne va assolutamente in un giorno, non riesci a stravolgere la tua vita in un momento, quindi che cosa devi fare quando ci sono questi problemi? In realtà non devi fare assolutamente nulla, io quello che ti consiglio è di fermarti un attimo, fermarti un po', cinque minuti, mezz'ora, un'ora e calmarti. Calmarti che cosa vuol dire? Non ah mi calmo sulla sedia, think positive, no, non quelle cose lì, ma calmarti vuol dire non so, ammetti che stai facendo tantissime cose, stai proprio male, ti fermi se ce la fai e che cosa fai? Appena finisce quel momento riprendi col tuo piano d'azione. Cioè purtroppo non ci sono altre formule magiche, io l'ho provato sul mio corpo e da anni che lavoro con il mio metodo, con centinaia ormai di pazienti che ho visitato, che stanno meglio, non c'è una formula magica, non c'è una pillola magica, bisogna individuare quel piano d'azione, sai benissimo che te lo propongo all'interno della web, dell'instagram, proprio di questo canale e continuare. Quando ci sono i momenti giù, l'unica cosa che devi fare è fermarti un attimo, piangere, disperarti, quello che vuoi, ma dopo devi continuare col piano d'azione. Questa è l'unica maniera per uscirne. Sono consapevole che magari questa pillola oggi è un po' come dire, beh, non mi hai detto nulla di nuovo. Non ti ho detto nulla di nuovo, ma ti ho detto la verità e ti ho detto una cosa che funziona. Per quanto semplice, a volte ci perdiamo invece in altre cose. Stiamo male, magari cambiamo mentalità, dotiamo una mentalità negativa, oppure diciamo no, oggi non faccio nulla perché sto male. Invece no, se adotti questa mentalità di fermarti un attimo e dopo riprendere col piano d'azione, di avere quella mentalità che tu stai lavorando a lungo termine, quindi non ti interessa il fatto che oggi non ce la fai più. È un momento, ma tu sei comunque dentro il tuo piano d'azione. Quindi quel momento ha un'importanza non troppo rilevante. Ovviamente queste tematiche le sviluppo dentro il canale, quindi guardati altri video. Queste sono solo pillole, ok, chicche piccole che ti do qua e là, proprio per impostarti un attimo il mindset e dopo ci sono i video di approfondimento. Spero che la pillola di oggi ti sia servita e ripeto, vai ad approfondire in altri video dove parliamo di mindset. Ci vediamo!